salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi un piccolo video solo per informarvi che finalmente fimi ha aperto uno store un magazzino in europa si finalmente potremo acquistare i prodotti fini direttamente da fini ma già prodotti che si trovano in europa e questo sicuramente fantastico perché come sapete acquistare i prodotti fini per chi non conoscesse il marchio fini è un marchio molto rinomato nel mondo dei droni che produce droni di buonissimo livello ma prezzi molto più abbordabili rispetto a dj ai hotel però uno dei limiti più grossi era proprio la reperibilità nel senso che per acquistare i prodotti fini dovevamo farlo o dal suo store ufficiale che però ovviamente è in cina o dai vari store cinesi quindi banggood o aliexpress però come sapete adesso acquistare dalla cina non è più convenientissimo dal punto di vista economico perché comunque quando poi il pacco ci arriva abbiamo un sacco di spese doganali che vanno ad alzare notevolmente il prezzo d'acquisto quindi non c'è più questo grandissimo vantaggio infatti sono calate tantissimo le vendite per questi store in europa nel senso che chi vive in europa tende ad acquistare su amazon e non acquistare più prodotti soprattutto costosi da questi store cinesi allora finalmente fini ha deciso di aprire un magazzino in europa e lo fa in una maniera secondo me molto intelligente lo fa attraverso amazon si praticamente aperto un magazzino di vendita all'interno di amazon come sapete chiunque può aprire un magazzino di vendita all'interno di amazon e tramite amazon vende i suoi prodotti però è direttamente fini a fare questo discorso come scelta di magazzino è stato scelto amazon di e però questo non è assolutamente un problema perché comunque il nostro account che abbiamo normalmente che utilizziamo normalmente qua in italia è valido su tutti gli amazon di qualsiasi nazione l'unica cosa è quando magari qui stiamo in certe nazioni non c'è la spedizione verso l'italia ma non è questo il caso perché da amazon germania c'è la spedizione appunto di fini verso l'italia quindi non è c'è nessunissimo problema da questo punto di vista e finalmente è possibile acquistare il nuovissimo film x8 mini v2 questo drone 249 grammi è appena lanciato da quello che marchio fini questo drone che è piaciuto tanto nella prima versione che adesso è è uscita questa versione aggiornata che ha migliorato quello che era la versione precedente io ho fatto un video dedicato andatevelo a vedere dove avevo spiegato cos'era cambiato dalla versione diciamo precedente a questa versione v2 per chi non lo sapesse per acquistare da uno store diverso da quello italiano è semplice nella barra di ricerca degli indirizzi che utilizziamo normalmente per cercare le cose su internet andremo a cercare amazon.de anziché amazon.it a quel punto avremo l'accesso diretto ad amazon germania basterà inserire le nostre credenziali e siamo già pronti ad acquistare su amazon germania e a questo punto possiamo fare la ricerca dentro ad amazon germania quindi cercheremo FIMI X8 Mini V2 e voilà vedete che appare subito il drone che stavamo cercando e possiamo poi a questo punto accedere direttamente a quello che è lo store FIMI all'interno di amazon e vedere quali prodotti ci vende il marchio FIMI direttamente attualmente ci sono tre prodotti disponibili che sono come abbiamo detto il FIMI X8 Mini V2 il FIMI X8 SE 2022 V2 e FIMI Palmela piccola telecamera con gimbal il FIMI X8 Mini V2 è disponibile nelle due versioni cioè quella normale con una batteria o la versione combo più completa con due batterie e via dicendo entrambe le versioni hanno il coupon da applicare quindi dal prezzo che avete di vendita che è 449 euro per la versione base e 499 per la versione combo c'è la possibilità andando a cliccare ovviamente come sapete adesso amazon c'è la possibilità di inserire dei coupon direttamente all'acquisto andando a sfregare appunto la casellina del coupon andare ad inserire questo sconto di 80 euro quindi il FIMI X8 Mini V2 con una batteria ci costerà 369 euro e poi la cosa ovviamente interessante è anche il fatto che questo prodotto è già qua in Europa quindi i tempi di consegna sono molto veloci quindi in 5-6 giorni abbiamo il nostro drone FIMI quindi sicuramente una notizia interessante sicuramente una notizia piacevole per chi ama il marchio FIMI per chi vuole acquistare un drone FIMI che adesso può farlo secondo me in maniera più diciamo disinvolta come siamo abituati a fare normalmente cioè acquistando su Amazon solo che anziché avere Amazon in italiano lo avremo in tedesco ma quello voglio dire è il minore dei mali ma l'acquisto il modo di acquistare le garanzie tutto quello che è il discorso Amazon ovviamente è sempre lo stesso perché Amazon comunque è sempre tanta tanta roba per quanto riguarda la tutela dei clienti che lo utilizzano quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato appunto questa novità che sicuramente tanti dove stavano aspettando ma anche io perché comunque mi piacciono i prodotti FIMI però come sapete adesso acquistarli dalla Cina c'era sempre magari delle sorprese a livello economico comunque ci sono tempistiche lunghe acquistare dalla Cina adesso tutto questo finalmente per quanto riguarda perlomeno questo marchio sembra che si sia risolto in modo veramente intelligente quindi se questo mio video in cui vi ho portato questa mia novità e di informazione riguardante il marchio FIMI vi è piaciuto l'avete trovato utile e interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove vi porto tante novità anteprime spoiler sempre se vi va ragazzi iscrivetevi anche al mio canale Telegram offerte per sostene questo canale dove posto altissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una accensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video